Il Comune di Pescara stanzia 46.000 euro per far rinascere la pineta d'Annunziana gravemente danneggiata dall'incendio del 1 agosto scorso. Il Consiglio Comunale approva la delibera che prevede gli interventi più urgenti e già avviati da diverse settimane con l'abbattimento di 50 alberi distrutti dalle fiamme. Molti alberi però sono stati lambiti dalle fiamme e hanno riportato danni irreversibili e potrebbero rappresentare un pericolo per coloro che frequentano la riserva d'Annunziana. Il Vice Sindaco e Assessore dei Parchi al Verde Pubblico Gianni Santilli spiega che la delibera esaminata lunedì scorso dalla Commissione Ambiente preseduta da Ivo Petrelli approvata oggi prevede di ripulire subito il comparto 4 per poterlo riaprire al pubblico. Vorrà ancora qualche giorno però l'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di riaprire il comparto 4 quello che non è stato colpito dall'incendio dove ci sono i giochi c'è il laghetto in modo da dare la possibilità alla cittadinanza di Pescara di rientrare alla Pineta. Oggi abbiamo approvato una delibera di somma urgenza che prevede l'abbattimento di 50 piante per mettere in sicurezza la strada via della Bonifica. Per la viabilità abbiamo più o meno risolto tutto tranne una strada via Silone che se non messa in sicurezza per le piante non possiamo riaprire. Stiamo lavorando allacremente insieme alla commissione che è stata nominata dal sindaco, dal dottor Savini, dal dottor Dario Febbo e dal professor Pirone e ci stiamo incontrando per cercare di decidere il da fare. Il gruppo di lavoro coordinato da me faranno parte anche il presidente della commissione ambiente Petrelli, Ivo Petrelli, più ci saranno tre associazioni ambientalistiche che sono il WWF, Lega Ambiente e Ambiente Vita, oltre alla partecipazione di due giovani ragazzi che ci porteranno qualche idea nuova.